e perché non mi piacciono le tolleranze, addirittura l'ho cancellato questo setup, l'ho usato raramente, ad alcuni era proprio una cosa fantastica, a me non mi piaceva, non mi piaceva perché io ho introdotto un altro sistema, ti faccio vedere quale, adesso vado a prendere una cosa, qui abbiamo un separatore, perché a me quello sistema non mi piace, perché in Inventor se tu lo conosci, questi tipi di tolleranze tu li puoi selezionare e li puoi attivare che già sulla quota hai la tolleranza con il superiore e l'inferiore, quindi non ti serve questo casino qua, tu non so come lavori nell'officina dove lavori tu, come lavori attorno alla fresa, con le tolleranze come? sì, sì, però un conto è mettere da tolleranze sul disegno, un conto come lavora il collega in officina, perché se tu metti un H7 o un H13, l'operatore oppure quello che in officina gli siano sempre delle quote di tolleranza, diciamo che il pezzo non sia errato e abbiamo sempre una tolleranza superiore e quella inferiore, giusto? Perché una tolleranza precisa a millesima centese non esiste, perché in base alla macchina sembra delle tolleranze, no? L'importante che alla fine il pezzo funziona, il pezzo va bene, noi progettisti a volte sogniamo a dare delle tolleranze, cioè specialmente i miei colleghi che hanno pochissima esperienza, danno tolleranze proprio che non stanno neri in cielo e in terra, però poi chi ha la macchina si suda sete camicie, no? realizzarlo, ma finché c'è un'azienda che veramente dice quello che gestisce il lavoro produttivo, ne capisce, fa cambiare le tolleranze, ma quando questo non c'è, vanno fatti dei pezzi così, che neanche servono, no? Allora, quello che volevo farti dire, appena il ventro arriva, dovrebbe arrivare un pezzo, è che ho fatto gli ultimi tempi una struttura enorme nelle sottocartelle, ecco perché il mio Inventor va piano, nel frattempo che l'Inventor va piano, questo giochino lo possiamo fare anche con SOLIDWORKS, più o meno è lo stesso, ok? Andiamo a prendere, che bello quando hai più programmi a disposizione, è bellissimo, è bellissimo, a me SOLIDWORKS Inventor sono i due programmi proprio i miei preferiti, anche CATIA è bellissimo, però CATIA sono poche aziende che lo hanno, questo è CAD CAM, lasciamo stare il CAD CAM, lasciamo stare il CAD CAM, vediamo qua se abbiamo qualche disegnino, andiamo a prendere questo, andiamo a prendere questo, va, si apri prima il modello e poi il disegno lo facevo prima con SOLIDWORKS, ora ti faccio vedere che Inventor si è ingazzato perché siamo sulla concorrenza e si dà un po' da fare allora qualche anno, fra qualche anno va piano eh? allora, quello che devo fare vedere io prima no? diciamo, andiamo qua su questa tolleranza questa è una 10 P6 o P9, più o meno no? Dove va la chiavetta allora tu, sia con Inventor e con SOLIDWORKS più o meno lavorano uguale no? io dico che lavorano abbastanza uguale vedi quando qua adesso siamo al foro e gli diciamo, che ti dico, una P P6, no? Andiamo a darci una P6 adesso non mi ha caricato la tabella, è disgraziato eh gli devo caricare la tabella e ha un valore superiore o un valore inferiore questo 00 è sbagliato, ok? però in tante officine utilizzano questo, ok? quando utilizzano questo quello che lavora in macchina, alla macchina è costretto ad andare a prendere il libro della tabella e a vedere quello che è che valori sono adesso andiamo su Inventor un pochettino che adesso vedi qua su Inventor, no? è venuto inventor qua questa misura 81,5 H12 se tu non gli dai una misura al tornitore il tornitore è costretto questo è un lavoro che ancora non è finito eh perciò è un po' incasinato qua non è stato approvato eh e quello che voglio dirti io in poche parole Andrea se tu vuoi schiacciare qua a doppio click io ho introdotto questa e perciò quella tabella l'ho eliminata quella che ha programmato Autodesk e gli dici mostra i limiti di dimensioni, no? e vedi che il valore alto è 81,5 oppure 81,15 che il tornitore per fare questa cosa dove va al Sega Ring si deve attenere, no? senza altri libri e norme se tu vuoi mettere solo questa questa H12 che è questa quello che lavora al tornio è costretto andare a prendere il libro e vedere questa tolleranza ecco perché io quella quel tools questo l'avevo installato l'ho utilizzato ma poi dopo una ventina di disegni ma che me ne faccio io di questa tabella quando io la posso mettere sulla sul direttamente sulla quota perché cosa ti fa quella tabella simile a quella cosa di di questo vedi qua c'è questo vedi? però adesso questo adesso siamo ritornati sul 2024 eh forse è bello adesso da poco io ho avuto l'aggiornamento qua speriamo un po' vediamo un po' ho avuto l'aggiornamento magari mi funzionasse se mi funzionasse non continuo più a programmarlo perché sto portando avanti questo progetto pian piano che ho del tempo però non mi funziona mi manca qualcosina qualche vite mi manca qualche rondella non mi manca molto perché se adesso io vado a cambiare questo questa quota qua pure per esempio vedi da ne aggiungo un'altra vedi che non mi si aggiunge vediamo un po' forse è bello se funzionasse qualcosa eh 140 vediamo un po' no non mi funziona qua ma stiamo parlando del 2024 comunque del 2024 che non mi funziona c'è un altro metodo che lo sto sviluppando adesso lo lasciamo stare il 2024 tanto tu non lo stai utilizzando vedi qua c'è una funzione pure che nel 2000 e in tutto l'inventor c'è questa funzione che queste linee di di sezioni non taglia la quotatura tu sai come funziona questa io vedi qua normalmente non deve tagliare la sezione non deve tagliare non deve tagliare la quota no? e c'è una funzione in inventor dove farlo io ho un po' di tempo che che questa questo è ancora un disegno di sviluppo comunque non è un disegno finito eh è un disegno che ho sviluppato per un miscelatore per un separatore con tante modifiche allora quello che ti voglio fare vedere io qua che in automatico questa linea si tratteggia per fare questo adesso è un tanto tempo che io non vado a toccare questa perché l'ho fatto nel template e nel mio template normalmente dovrebbe andare bene allora questo dovreste andare qua sulla gestione vai su editor di stili però qua deve stare attento eh perché quando vai a toccare qua non vai a toccare solo questo foglio ma vai a toccare tutto deve stare un po' attento qua eh allora qua io qua ce l'ho tantissimo con il ventro eh veramente tante cose ho fatto con il ventro ok ok comunque io avrò una nota no che andrò a trovare non adesso Andrea che poi te la posso posso fare un post magari ti posso taggare ti faccio vedere perché adesso non me la ricordo a memoria eh mi ricorda che qua c'è un tools dove deve mettere solo una spunta e queste non ti vengono ma io nel mio template l'avevo già l'avevo già fatto eh mi è strano che questa cosa vediamo un pochettino faccio apposta adesso qua mi è strano eh comunque cosa fa? va a a fare questa linea la va a tagliare che non tocca la la quota no? è questo vedi qua comunque adesso questo disegno è da lavorare tu li sai fare questi tipi di cose qua Andrea li sai programmare queste cose? no? oh è facile io però ci sono tantissimi già finiti eh io diciamo così il novanta per cento di quello che serve per il disegno industriale ce li ho già fatti ok li devo magari tradurre in italiano vedi questo qua no? se tu lo vuoi andare modifica a ponte freccia vai e puoi modificare di qua perché a me piace fare tutto programmabile eh e di qua per esempio puoi andare a togliere a cambiare però non è quello che volevo fare altrimenti serve solo il valore il valore vai qua modifica aggiungi ah ecco di qua vedi dove c'è la fx no? e di qua vai a cambiare il valore per esempio uno e qua lasciamo meno meno due solo esempio eh vedi e e qua è questo quello che ti significa che l'esterno è l'interno no? e e qua ti faccio vedere questo è un disegno abbastanza vecchio dove io ce ne ho tantissimi vedi quanti ce ne ho io di questi Andrea allora questo ce l'ho tutto per modifiche quando va a fare le modifiche di cui la revisione io uso più ultimi tempi quella di autodesk tempo fa io ce ne avevo una fatta per me che la vai a portare qua con il blocco e scrivi dove si trova la modifica per esempio il motivo quello e quell'altro no? per esempio adesso io metto la il valore a oppure 01 01 dove si trova vediamo un po' dove si trova la modifica per esempio la c4 un esempio c4 e questa è la data di oggi 30 punto 12 punto 23 mi ha fatto più punto a me punto punto e qua mettiamo solo il mio nome Pietro e adesso per questo è per un certo template che lo vai a mettere poi qua dove era il template adatto per questo no? avevo un template adatto per la modifica che lo mettevo qua ed era tutto a posto ok ce l'ho salvato nelle come si dice nell'archivio perché l'ultimo tempo io uso quello di autodesk mi piace quello e perché posso dare consigli autodesk uso questo ok utilizzo questo perché utilizzando questo posso vedere se funziona o non funziona o ha problemi utilizzo questo però tempo fa io utilizzavo quell'altro vedi questo qua è simile a quello però questo è originale di autodesk no? tu secondo me utilizzi anche questo no? però questo è per fare vedere quello che puoi fare con con Inventor però è veramente tantissimo eh allora qua c'è tante cose che ho programmati con Inventor e andiamo a vedere il simbolo di schizzo vedi qua abbiamo per ehm come si dice no? i pay smussi e via di seguito no? tanti tipi ne ho c'ho questo che abbiamo visto prima io adesso li metto poi non salverò il disegno tanto ne ho veramente tantissimo io questo è quello programmabile che come verrà subito di Metapro a scrivere ogni volta ed è la poi queste delle delle rivisi delle rugorosità vedi qua c'ho per esempio anche già programmato per per RA vedi? e tu questo non li utilizzi questi cose con Inventor ehm ti aiutano eh però bisogna metterlo nel template poi una volta che sai che funziona no? questo per esempio questo già come adesso metterlo nel template non è difficile basta che vai qua ti faccio vedere qua se io ti passerò un disegno no? ti faccio vedere come si fa tu vai qua vai a vedere qual è è questo vedi questo qua questo è il disegno ok? adesso io di qua lo cancello e sparisce però se a te ti interessa che lo vuoi mettere nel tuo template dici cavolo questo mi interessa cosa devi fare? o te lo copio di qua oppure vai sopra che sarebbe questo lo copio lo copio ecco c'è un po' c'è 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 ehm mio figlio ha bisogno di aiuto devo andare breve e e questo diciamo se io ti passerò un disegno ti vai a coprire questo lo vuoi mettere qua nei simboli di schizzo e e ce l'avrai ok? questo è stato fatto tutto con il vento te le puoi fare anche tu da soli queste cose non è difficile eh basta che vai qua ti vai a creare e ti fai uno schizzo un foglio solo e poi te le vai a creare questi giochettini qua non è niente di difficile però giustamente ci vuole un po' di lavoro un po' di pazienza perché questo è uno schizzi da fare eh sono linee da tirare valori eh io a fare una cosa di questo ci metterò io un'ora diciamo diciamo eh è del gruppo e adesso siamo nel gruppo vedi vai qua vai qua vai qua e scrivi scarica e ti viene su download stessa cosa con i colori anche se è scritto 2024 va anche con le versioni precedenti e questi tutto il resto ok sì comunque queste queste cose qua eh ti dicevo anche per gli alberi vedi questo qua per esempio no questo per il per il centrino no non so non so se tu lavori tanto con la torneria eh 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 vabbè però bisogna sempre quando ma qua questo è un vuoto non c'ha il centrino no bisogna sempre dire il quale devi prendere quelle quattro aiuti chi andrà a lavorare con il tornio eh però io ne ho ne ho veramente tantissimi di questo vedi perché eh ogni volta che una cosa su più disegni va io me la programmo così e me la metto qua dentro e poi giustamente sempre strutturato la vai a prendere di qua e la vai a utilizzare ho veramente tantissimi tantissimi cose personalizzati che la maggior parte sono in tedesco però bisogna tradurli in italiano e questo invece ecco con il valore cioè se con il vento 2024 a me mi da problemi sono costretto a ritornare a questa questa epoca qua io eh finchè il tools a me non mi va io sono costretto a farlo eh guarda quanto è brutto questo comunque lo devo aggiustare e niente comunque ce ne stanno ce ne stanno io ne ho tantissime di queste cose queste sono per gli alberi questo è una è una quota che che per gli alberi no la gola dice dove non è non è quotata c'è questa misura e poi tu giustamente eh questa la vai a mettere qua se sono tutti quanti identici e vale è a norma se sono tutti uguali eh sull'albero se poi c'è un 06 per 02 oppure uno per 08 cambia la musica eh ok questo sono i sono i questi di nuovo eh ce ne sono comunque per esempio anche quando verniciata a polvere no? verniciata a polvere per esempio noi abbiamo questi lo fai una volta per esempio non so quali codice voi avete io un'azienda avevo questa questi qua e c'era definito questo andava sul disegno e in base a come era l'articolo uno si prendeva il ral 3001 che era rosso 1032 giallo il 5002 blu no? e e e queste sono cose che che ti aiutano se se voi avete per definizione sempre questo tipo di ral non devi stare sempre a scrivere sai lo prendi con drag and drop e lo butti via e e ce ne stanno queste invece per per aspetta un po' ah queste sono cose che le posso pure buttare nell'invento 2009 non c'era questo questa invece è la linea per per trattamenti termici qui e comunque ne ho eh oh dio questo è quello di prima e vabbè poi inoltre ti posso mandare un un template e lo puoi configurare il template come ti serve perché per farti queste cose bisogna farti uno schizzo è semplice comunque no? ti fai uno schizzo così una volta che ti avvio lo schizzo ti fai lo schizzo come lo vuoi tu zack zack tutto quello che vai a scrivere no? e poi e poi lo devi esportare nel nel col comando dei simbolo di schizzo lo devi esportare poi si e poi e poi una volta che ce l'hai là dentro è fatto non è difficile comunque è veramente facile si vabbò io adesso ti devo lasciare Andrea perché mio figlio mio figlio mio figlio ha bisogno di me e devo andare ok? ciao 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 anche te buon anno eh ciao ciao ciao